La nuova rivoluzione industriale è ormai alle porte. Parliamo del concetto di industria 5.0, alfabetizzazione digitale, competenze su intelligenza artificiale, big data. Sono tutte competenze che verranno richieste al lavoratore del futuro e le aziende devono adeguarsi e non devono farsi trovare impreparate per far sì che il proprio talento digitale abbia le giuste competenze per innalzare gli standard competitivi dell'impresa. Cosa fare però quando non si riesce a trovare il giusto professionista? Affidarsi a Next. Next, progetto selezionato dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale, aiuta a ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Esperti in cyber security, in coding e in scrittura di programmi sono i talenti digitali che Next può indirizzare verso la tua strada. Basta che la tua azienda sia pugliese, campana o lombarda. Poi ci pensa Next a trovare il talento digitale giusto per te. È semplice. Subito Next.